Perché ormai avete aspettato 28 anni, ma sono quasi un immediato, cos'è mai si poteva essere cacciati di opportunismo? Io credo che questa volta nessuno può dire niente, è una canzone, racconto un po', se io è fuori classe, e noi siamo onorati di condividere questa storia annunciata nel 1963. Purtroppo è terminato nel 1992, però il viaggio continua, come ha detto Daniele, nello scritto iniziale, forse pochi di voi l'hanno seguito, comunque Daniele ha scritto un testo bellissimo all'inizio, prima che noi iniziassimo dove c'era un sottofondo musicale, che direi che insomma la spiega viene tutta la storia, il momento che stiamo vivendo, è tutto quello che ci è accaduto intorno con gli amici, e non ci sono più tante belle cose. Adesso ci insieme le fuori classe. Grazie. 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 Grazie a tutti.